Una discepola di Puri Maraj e di Narayana Maraj soffre perché il figlio ha problemi di schizofrenia. Lei non ha fiducia nei medici, ma ha fede nei sadhu. Cosa può consigliare la sua santità? Molte grazie, il ragazzo si chiama Haridas e è da 29 anni. Un discepolo di Puri Maraj e Narayana Maraj soffre molto perché il figlio ha problemi psichiatri. Lei non ha fiducia nei medici, nei doktori, ma ha molta fiducia nei sadhus. Che puoi consigliare a lei? Le cose che riguardano il corpo possono risolvere i doktori che si occupano del corpo. Il sadhu è quello che ti mostra la via spirituale, però il guru è soltanto la via, non è l'obiettivo. È come un navigatore. Può mostrarti la via, però siamo noi che dobbiamo lavorare per poter progredire in questa via. La malattia fisica è un argomento differente, è una malattia del corpo. È un problema mentale. Questo può essere migliorato, questa malattia, soltanto attraverso la medicina, dei dottori. di coloro che hanno conoscenza in questo campo. La medicina quantica coscienza è in linea. è in linea. È in linea. La medicina è una cosa, la coscienza è un'altra cosa. Non possiamo combinare e collegare tutto. Sono due cose distinte. Grazie. 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 Grazie.